Ma le dimensioni contano davvero? Sigla! Questa settimana, oggi che registro il 15 di dicembre, quindi due settimane da Natale, dieci giorni da Natale, questa settimana Pietro Giovani di Unio scrittore sul web ha fatto uscire un video molto interessante che parla di qualcosa che io infilo in tantissimi dei miei video e che però non ho mai trattato come argomento specifico di un video e quindi Pietro mi ha dato il là e sono qui di fronte alla telecamera per parlarvene a modo mio. La domanda che Pietro si pone è questa. Ma è così importante che un libro sia grosso? Perché un libro grosso viene percepito come migliore o stuzzica di più l'acquirente per portarselo a casa e leggerlo? Siamo sicuri che le dimensioni di un libro siano così importante? Non è che ci sono troppi riempitivi che servono solo a dare l'impressione al lettore che sta pagando il tanto giusto per quello che riceverà indietro dalla lettura, ovvero stiamo pagando la quantità o la qualità? Perché l'impressione di Pietro è che oggi si stia pagando la quantità. A scapito della qualità, il discorso è abbastanza implicito, ma è abbastanza ovvio secondo me. Ecco, oggi io vi cerco di... mi cerco di agganciare al discorso che ha fatto Pietro e cerco di darvi il mio punto di vista, che è molto molto simile per tante cose a quello di Pietro, ma non è così uguale. Seguitemi così, cerco di spiegarvi in modo possibilmente sintetico, anche se spesso la sintesi non è tra le mie doti, cos'è quello che voglio dire. E ve lo farò tramite degli esempi, portandovi degli esempi di libri di cui spesso ho parlato qua sul canale, ma non esclusivamente. Partiamo dalla narrativa. La narrativa è un campo molto particolare, perché nella narrativa la storia può avere una grossissima importanza, oppure ci sono libri di narrativa pura, esempi di letteratura alta, cosiddetta, dove la storia è solo un pretesto per parlare di qualcosa che riguarda l'essere umano, l'animo umano, la psicologia, non un testo di psicologia, non sto parlando di saggi, sto parlando di romanzi, un certo tipo di approccio psicologico ai personaggi. Quindi la storia è un elemento sicuramente fondamentale nella produzione, nella scrittura di qualsiasi libro, non sto sminuendo questo, sto dicendo che in alcuni tipi di letteratura, in alcuni generi, la letteratura di genere, appunto, la storia è importante, in altri generi, o meglio, nella narrativa, cosiddetto il genere mainstream, cioè quello che non è classificabile come un genere specifico, la storia può avere una grossa importanza o può essere addirittura irrilevante. Questo per dire che le dimensioni di un testo di narrativa possono essere ampiamente variabili. Per parlarvi di questo vi porto alcuni esempi. Una sorta di pseudobiografia o biografia che è Panino al prosciutto di Bukowski, che io ho letto di recente, che è sotto le 300 pagine. Un altro libro che io ventilo di frequente, molto spesso, di cui parlo spessissimo, che è uno dei miei libri preferiti, se non il mio preferito, è Il Maestro e Margherita, che esiste in varie edizioni a seconda del corpo del testo, a seconda della dimensione dell'impaginazione, è varia, ma è comunque un testo abbastanza corposo. Questo è 350 pagine, tolte le prime pagine, appunto, di introduzione, un minimo di note, come sapete, nei grandi classici. Quindi un 350 pagine con un corpo del testo, però abbastanza piccolo. Vi faccio vedere l'edizione, l'altra edizione che ho, della Feltrinelli, che rende forse più giustizia al tipo di testo che abbiamo di fronte. Questa è lei in Audi, questa è la Feltrinelli, che ovviamente con un corpo del testo più grande e più agile da leggere, sfora le 500 pagine. Non finiamo qui, perché c'è un altro romanzo classico, pilastro della letteratura moderna, che è Viaggio al termine della notte, di Louis Ferdinand Céline, che non ho mai letto purtroppo, ma che, avendo un corpo del testo più o meno come Il Maestro e Margherita, arriva a 550 pagine. Vi sto prendendo dei libri che sono sostanzialmente degli ottimi libri, se non dei capolavori, come nel caso di Bulgakov e di Céline. C'è ovviamente un altro testo che è il mio amatissimo Cuore di Tenebra, che ha un numero di pagine variabile, ma che può essere racchiuso nella dicitura di Romanzo Breve. Quindi vedete come la narrativa occupa uno spettro molto variabile, molto ampio di pagine, in base a quello che deve dire. Quindi è difficile dire, come anche Pietro stesso dice, che Guerra e Pace sia un libro inutilmente voluminoso. Su questo siamo d'accordo. Come io Guerra e Pace non l'ho letto, ma l'ho letto Il Maestro e Margherita, non è prolisso nella narrazione. È un libro che dice molte cose, è un libro che racconta molti eventi, è un libro molto complesso nella struttura, nella trama, è anche un metà romanzo, ma non è assolutamente un libro dove ci sono dei riempitivi, dei filler, come li ha chiamati Pietro giustamente. Non è assolutamente questo. Un libro dove poteva Bulgakov assolutamente togliere delle parti, stralciare delle scene, delle parti che lui ha raccontato, ma se le inserite in un libro così, quelle scene hanno un loro significato, perché alcuni libri, come vi dicevo, sono solo narrazione di una storia. Pensate al fantasy. Pensate... Il fantasy forse il più tipico, va bene, Il Signore degli Anelli. È un viaggio che poteva essere molto più corto, Tolkien ha voluto fare così lungo, è una scelta autoriale. Lo stesso discorso vale per Bulgakov, che ha deciso di inserire un certo numero di passi, di gradini, di step successivi, che il lettore si trova ad affrontare, ma perché in quel romanzo lui stava parlando di qualcosa di preciso. Romanzo che poi storicamente è stato scritto, riscritto, rimaneggiato, aggiunto, tolto, quindi è anche un esempio forse difficile da comprendere, ma per dare l'idea del fatto che alcuni romanzi siano lunghi perché hanno da dire delle cose che non possono essere tolte, perché l'autore vuole far arrivare al lettore quel suo pensiero, quel suo concetto, e libri che sono lunghi perché il narratore o l'autore semplicemente si diverte a raccontarti una storia che è in 40 tappe invece che in 20. Ci sono libri di narrativa che sono lunghi perché sono prolissi, semplicemente piando dei riempitivi inutili che potevano essere stracciati tranquillamente, ma che servono a dare l'idea che il panino che ti hanno dato non è un panino così piccolo gourmet, ma è un bel paninozzo di quelli da mezzo chilo che tu ti mangi anche se la qualità è meno buona del panino gourmet. Ci sono poi un altro genere che sono quelli che io amo di più in assoluto che sono i racconti brevi, i romanzi lunghi, scusate, i racconti lunghi, i romanzi brevi, i racconti in sé, come per esempio il mio amatissimo La leggenda del santo bevitore, di cui ho fatto un video che non si calcola a nessuno, ma che è uno dei racconti dei libri più belli mai scritti secondo me di Joseph Roth, un libro memorabile, fantastico, non so più neanche quante volte l'ho letto. E il problema, vi dico io qual è il problema dal punto di vista mio, che scrivo, quindi vi dico il punto di vista dell'autore, e vi dico il perché faccio un certo tipo di percorso io. Se tu come autore hai, non parliamo della macchina da scrivere dove c'era un costo del tape, del come si chiama, del nastro, della carta, della macchina da scrivere e così via, parliamo di un computer qualsiasi, dove qualunque cosa può essere digitale. Qual è il confine alla lunghezza di un racconto o di un libro? Non c'è, perché i file arrivano a pochi megabyte e quindi tu puoi scrivere in teoria 10.000 pagine, che nessuno ti ferma. Qual è l'esercizio che però un autore deve saper fare? Che è quello che cerco di fare io, per questo mi esercito anche con questo tipo di narrativa, che è quello del racconto. Quando tu invii un racconto a un concorso, il racconto deve stare in 40.000 battute, cioè 20 pagine a 4, 20 cartelle editoriali, cioè una pagina a 4 scritta in corpo 12, con interlinea 1,5. Questo è la dimensione dei racconti che vengono inviati ai concorsi. 40.000 battute è pochissimo per far stare un incipit, un finale, uno svolgimento, caratterizzare i personaggi, essere interessanti, metterci dentro quello che tu come autore vuoi dire. Quindi è un esercizio molto importante che, secondo me, un certo tipo di autori mainstream, un certo tipo di autori di narrativa di genere e non, dovrebbero iniziare a fare. Perché il fatto di avere la libertà di scrivere tutto quello che si vuole non vuol dire che tutto quello che scrivi sia oro. È il contrario. Bisogna imparare a scrivere in togliere. E questo è l'esercizio che si fa quando uno scrive un racconto. Perché io stesso mi sono trovato a sacrificare parti che mi piacevano molto, a dover rimaneggiare parti dove ero stato prolisso o troppo dettagliato nello spiegare una situazione, un personaggio e così via. Quindi scrivere in togliere è un esercizio fondamentale. Il che vuol dire che se tu devi dire qualcosa, cioè non stiamo parlando di una storia, stiamo parlando di una storia che contiene qualcosa che l'autore vuole comunicare, che è di solito il motivo che spinge a scrivere. Se io ho tutta la carta dell'universo, scriverò un libro di diecima pagine, ma se io ho fatto l'esercizio di pensare cosa è che veramente serve alla narrazione, quali sono le parole, non solo i paragrafi, non solo le scene, non solo i capitoli, ma anche le singole parole, le singole frasi, cos'è che serve veramente? Questo serve bene, non serve via. Togliamo aggettivi, togliamo avverbi, togliamo inutili ripetizioni di concetti, di parole, di cose che non servono. E in questo caso più si asciuga la narrazione, per come la vedo io, più efficace il racconto. Questo vale per tutti i generi. Nella narrativa, vi ripeto, il senso di avere un libro molto voluminoso può essere legato alla quantità di avvenimenti raccontati o al tipo di narrazione che si fa. Chiaramente un libro come Guerra e Pace è un libro prolisso, nel senso che è un libro che contiene molti avvenimenti e non è necessario magari raccontarli tutti, ma stiamo parlando di un periodo storico passato, di qualcosa che era un tipo di scrittura che oggi non esiste più, si aveva pagato in modo diverso dalle royalties che si percepiscono oggi. Quindi, un libro che misura 1200 pagine è un libro in sé prolisso, nel senso della parola. Un conto è il volume, una quantità di pagine di un testo, un conto è la prolissità narrativa, cioè l'esuberanza di informazioni inutili. Dalla narrativa, adesso mi sposto, siccome io leggo abbastanza poca fantascienza, ma anche gli Urania hanno una durata, una dimensione che è simile a quella dei gialli mondadori, ci sono ovviamente gialli molto lunghi, gialli molto più brevi, senza scadere nel racconto, ma io penso che per la fantascienza grossomodo siamo lì, quelli che ho letto io, ho letto Vonnegut, ho letto Wells, insomma, ne ho letto altri, ho letto Mateson e così via. L'impressione che ho io è che la fantascienza stia più o meno nella dimensione di un libro giallo della Mondadori o di un giallo classico o di un noir classico. E a proposito dei gialli, vi volevo parlare del giallo e del noir. I gialli di cui vi prendo esempio sono un giallo Mondadori che è il primo giallo scritto da un italiano pubblicato nei libri gialli nel 31, che è Il set è bello di Alessandro Varaldo di cui vi ho parlato, non so se il video è già uscito, ma uscirà, o comunque no, forse è già uscito. E l'altro è il classico Maigret di Simenon. Stiamo chiaramente a seconda del corpo del testo, il giallo Mondadori sono 200 pagine, quello della Delphi sono 150, classicamente Simenon sta in 160 pagine, ma sono comunque libri che hanno ancora una dimensione relativamente contenuta. Il giallo classico, il giallo classicamente inteso è di queste dimensioni e da queste dimensioni non si discosta neanche tanto non si discosta neanche tanto il noir. Ci sono noir chiaramente più voluminosi come alcuni di Chandler come altri romanzi noir, ma siccome il noir veniva, il noir vero dell'epoca d'oro veniva pubblicato a puntate sulle riviste, spesso erano 2-3-4 uscite e quindi il noir come per esempio questo meraviglioso di Kane ci sta in 120-130 pagine. Ci sono noir più lunghi chiaramente, ma raramente sforano le 250 pagine, è molto raro noir classico. E infine c'è un libro fondamentale, una pietra miliare della letteratura italiana che appartiene comunque al mondo del giallo che è Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia che racconta una delle storie più importanti dal punto di vista dell'evoluzione della letteratura italiana per il contenuto, oltre che per la forma di Sciascia chiaramente era un mostro a scrivere, ma in 137 pagine, cioè siamo ancora nel romanzo breve, racconto lungo se volete, con un corpo del testo anche abbastanza piccolo, 11-12, scusate, grande, non è un corpo del testo piccolo, in 130 pagine Sciascia scrive una pietra miliare della letteratura gialla, della letteratura poliziesca e della letteratura italiana in genere, perché Il giorno della civetta è sui libri, sulle antologie di letteratura italiana di tutte le scuole. Quindi capite come quello che vi voglio dire è che il giallo, il noir, quel tipo di giallo o di noir a cui sto facendo riferimento io non ha bisogno di 400, 500, 600 pagine. E cosa è successo allora? È successo che sono arrivati i narratori americani. Narratori americani come per esempio James Hedroy che è una grandissima penna ma che in, per esempio, La Dalia Nera di cui lo stesso vi ho parlato, di questo libro, in 300 pagine con un corpo del testo molto piccolo, una pagina molto fitta, scrive una storia comunque lunga. In certi tratti secondo me ha allungato troppo ma anche qui lui aveva interesse a raccontare un certo tipo di America, un certo tipo di polizia, un certo tipo di società e di delitto. Quindi vi ho detto il problema problema relativo cioè quello che succede sul finale senza svelarvi il finale chiaramente che ne fa un libro un po' un po' lungo ma sicuramente la scrittura di Hedroy è molto asciutta non è un libro prolisso. Siamo nel mondo del thriller perché questo giallo di Forsyth di scusate di siamo nel mondo del thriller a cavallo tra giallo di thriller e Renoir perché questo libro di Hedroy appartiene a quel segmento è così come in thriller fantastico il dossier odessa di Frederick Forsyth che con un corpo del testo non piccolissimo un corpo del testo giusto è un'impaginazione abbastanza fitta e comunque sulle 350 pagine ma lo stile di scrittura di Forsyth per quanto incalzante per quanto la storia sia ricca di avvenimenti e di descrizioni è comunque ancora uno stile asciutto ma Forsyth ve lo ricordo è un autore inglese non è americano cosa che fa una grandissima differenza dal mio punto di vista della struttura della narrazione del tipo di narrazione a cui ci hanno abituato certi scrittori americani nell'ambito del noir e del thriller abbiamo anche un esempio uno strano che è Giorgio Faletti con il celeberrimo io uccido che in questo formato della Mondadori arriva a quasi 600 pagine quindi siamo nelle dimensioni del thriller americano Faletti ha scritto un thriller americano italiano va bene questo è Faletti un tomo comunque poi ci sono vari formati edizioni tascabili più o meno pocket e così via ma questa non era la prima edizione se mi ricordo bene ma comunque decima edizione questa è del 2006 scusate tra l'altro è Baldini e Castogli ho detto una fesseria quindi capite un libro voluminoso siamo sempre nell'ambito del giallo e vedete come pur essendo italiano ha quel gusto quel tipo di scrittura che appartiene al mondo americano non solo vi porto adesso non solo vi porto adesso qualcosa che viene dal mio mondo cioè dalla Svezia e vi porto Henning Mankel che è uno dei giallisti più apprezzati degli ultimi vent'anni probabilmente uno scrittore che è amatissimo dei lettori io ho letto i primi tre la Leonessa Bianca che vedete anche questo è un tomo l'ho lasciato a metà mi ricordo lo stavo leggendo un'estate ne avevo comprato il primo mi era piaciuto il secondo mi era piaciuto il terzo così così il quarto che era questo mi aveva veramente stancato perché è inutile continuare a leggere miliardi e miliardi di pagine con cose lunghe che sono il classico thriller all'americana che a me non piace e ve lo dico questo è un libro che ha un corpo del testo comunque piccolo 550 pagine li chiamano gialli li chiamano noir questo sconfina nell'ambito del thriller e il thriller non so ancora per quell'accidente di motivo i lettori di thriller hanno bisogno di in continuazione avere informazioni su ogni virgola su ogni cosa hanno bisogno di questa prolicità di questa infinito descrivere scrivere raccontare quando se manche fosse veramente un autore che vuole come è come è raccontato e come di fatto è vuole veramente raccontare la sua Svezia come hanno fatto Hoa Leualò dovrebbe scrivere romanzi come Hoa Leualò che stavano ampiamente dentro le 300 pagine che hanno scritto un poliziesco un polisprocedural svedese negli anni 60 che però è di fatto nelle dimensioni del giallo classico un po' in più un po' in meno siamo lì ma le pagine sono quelle sono quelle di un Camilleri sono quelle di un Manzini oltre le 250 oltre le 300 ma è un corpo del testo molto diverso un'impaginazione molto diversa è un tipo di scrittura molto diversa quindi Mankell per me filosoficamente come posso dire lo incasello tra i noiristi o i thrilleristi di gusto americano e non mi piace come parlare di Mankell e della Svezia senza parlare di Stig Larsson Stig Larsson mi state capendo Stig Larsson il più breve della trilogia Millennium e Uomini che odiano le donne che arriva a 670 pagine la regina dei castelli di carta arriva a 855 pagine la ragazza che giocava col fuoco a 750 pagine io le ho letti tutte e tre in cartaceo e vi assicuro allora io l'ho detto in altri video questi il primo è un giallo un giallo Wudanity secondo un noir è il terzo un thriller ma perché questi accidenti di Stig Larsson che ha anche avuto un'ottima idea era una bella idea è un bellissimo personaggio Lisbeth Salander anche il protagonista è abbastanza interessante abbastanza ben ideato ben descritto l'idea di Uomini che odiano le donne è molto bella c'è il tema dello stupro della violenza ci sono tante cose che lui mette dentro mette dentro la Svezia quindi è un bellissimo romanzo da quel punto di vista ma la pecca di quello che dico io è il complesso della prima colazione ti deve raccontare cosa aveva mangiato adesso non mi viene Micael a colazione che tipo di fiocchi d'avena che tipo di latte quanto era scremato quanto non aveva bevuto e se aveva preso il caffè o non aveva preso il caffè madonna io queste cose proprio non le sopporto 850 più 700 più 550 fanno oltre 2000 pagine non è accettabile scrivere un libro di queste dimensioni non ha senso per come la vedo io non ha senso se lui avesse asciugato asciugato lo stile la quantità di cose inutili sarebbero usciti tre romanzi che sono veramente sarebbero stati nell'ambito del vero capolavoro della narrativa di genere per cui io continuo a dire che è troppo lungo troppo lungo a meno che non si parli di qualcosa che ripeto è narrativa ma narrativa stiamo parlando dei grandissimi autori di narrativa sapete senza dove scomodare Proust e la Research che sono tra l'altro diversi libri non è un solo libro sono diversi volumi uniti insieme se non dobbiamo scomodare Joyce chiaramente o se non dobbiamo scomodare i mostri sacri che là non è questo il discorso stiamo parlando di una scrittura sperimentale stiamo parlando di innovazione quello è tutt'altro se parliamo di lettura di letture normali vi ho preso i thriller i gialli la fantascienza per parlarvi di una lettura accessibile al pubblico normale di lettori non ha senso questa voler anabolizzare qualunque testo e farlo diventare ipertrofico gonfio di muscoli che non servono a niente che non servono a niente se non a storpiare la bellezza di un testo come per me è stata la trilogia Millennium e infine per farvi capire qual è uno dei libri più belli che mi hanno cambiato di più in vita mia che mi ha fatto riflettere di più in vita mia è la lettera a Meneceo sulla felicità di Epicuro con testo greco a fronte arriviamo a 35 36 pagine con le spiegazioni con le note con l'introduzione una lettera quindi capite non è neanche un libro non è neanche un racconto a breve una lettera ma quello che voglio dire io è che quando tu hai qualcosa veramente da dire quando hai qualcosa che ti brucia dentro senza arrivare all'estremo della poesia dove veramente ogni parola è sentenza e ogni parola non deve passarvi inosservata quando la leggete ma senza arrivare chiaramente alla forma della lettera io adesso qua sto esagerando sto estremizzando il discorso ma in realtà io quello che vi voglio dire è che in grandissima parte la vedo esattamente come Pietro Giovani di uno scrittore sul web la vedo esattamente così se Conrad avesse allargato il suo cuore di tenebra per raccontarci come fa King magari che anche Pietro cita che si sta innervosendo con King anche lui non sono solo io forse sul web a avercelo un po' sulle scatole ma se se Conrad avesse fatto un'operazione alla King e ci avesse detto con chi giocava a Kurtz da piccolo dove abitava come era fatta la madre come era fatto il padre se lo zio lo picchiava come faceva colazione come erano i suoi vestiti dove era la casa natale dove si era trasferito ma che senso ha? state togliendo il mistero una figura incredibile della letteratura di tutti i tempi come Kurtz ripresa poi nel colonnello Kurtz che è un personaggio diverso in Apocalypse Now ma capite che non c'è bisogno di dare miliardi miliardi di informazioni su ogni virgola su ogni pelo del naso su ogni tipo di capigliatura che il protagonista o un personaggio anche che passava la per la strada ha cambiato nella propria vita non serve a niente e io sono convinto che questo abbia cambiato il gusto di un certo tipo di lettori vi dico questo e poi concludiamo se no diventa anche questo un video lunghissimo io mi sono l'ho detto in qualche altro video questa cosa che penso ci rifletto da tanto ci continuo a riflettere e ne sono sempre via via più convinto ormai nel mondo esistono due lettori i lettori attivi che sono quelli che sfruttano una scrittura immaginifica dell'autore cioè quello che con due pennellate la simenon per capirci ti descrive un mondo e tu che sei un lettore attivo da quelle poche pennellate ti crei il tuo mondo con la fantasia con le suggestioni con l'evocatività che quello scrittore è in grado di provocare in un lettore e poi ci sono dei lettori passivi cioè quelli che hanno bisogno di sapere ma il divano era in pelle o era in tessuto e di che colore era e quante sedute aveva e dove era messo nella stanza e la stanza dove aveva la finestra e chi c'era seduto nella stanza e nella stanza a fianco chi c'era e di cosa stavano parlando e chi era che parlava e cosa ha fatto da bambino chi parlava se no io non capisco di chi stiamo parlando ecco questo è un lettore passivo che ha bisogno di uno scrittore che non è immaginifico ma al contrario iperdescrittivo che porta a testi ipertrofici pieni di descrizioni pieni di riempitivi perché vi ripeto il fatto di sapere che la bambina che vi ho messo nell'esempio del video sugli aggettivi tra King Simenon e Conrad la bambina che pesca il pesce non ha bisogno di nessun'altra caratterizzazione per avere esattamente idea del tipo di famiglia del tipo di contesto del tipo di cosa una famiglia che porta una bambina a pescare sul ponticello è quella famiglia lì cosa ve ne frega dei vestiti cosa ve ne frega del pesce cosa ve ne frega se il padre fumava o no cosa ve ne frega cosa faceva la mamma di lavoro non è quello però io capisco che ci siano dei lettori perché di questa cosa ne ho parlato anche con Francesco sul gruppo Telegram di Pietro sempre che è un lettore molto vario ma è anche soprattutto un lettore secondo me passivo cioè che ha l'interesse di farsi spiegare virgola per virgola e mi ha detto che è perché lui ha la curiosità di sapere tutto delle vite degli altri cioè gli altri sono i personaggi che popolano il libro ecco io questa curiosità non ce l'ho però rispetto perfettamente il lettore che ha questo gusto perché i gusti non si discutono non si discutono io quello che discuto è che dal punto di vista stilistico dal punto di vista contenutistico di un'opera d'arte non aggiunge niente aggiungere dettagli su dettagli su dettagli e riempire una storia di contenuti che sono come ripeto come Pietro ha giustissimamente detto sono dei filler sono dei riempitivi io francamente trovo che questa sia una cosa sbagliata che sia una cosa nociva che abitua i lettori a non avere più cioè capite la torre d'avorio di fantasia che crolla è questo tipo di lettura è una lettura televisiva è una lettura che ha bisogno dell'immagine sullo schermo per farti capire chi è che sta uccidendo chi in che palazzo ci troviamo cosa sta succedendo non è più un lettore abituato alla lettura a evocare estrapolare le immagini da un testo scritto oppure come succede a me come è quello che faccio anch'io quando scrivo io non faccio la scheda del personaggio che viene buttata lì appena sì un'introduzione veloce di un personaggio si deve fare ma poi non sto a fare un paragrafo intero ve l'ho detto come ha fatto Joel Dicker con Nola che la descrive in quel modo pirotecnico e orribile quello che a me piace è che tu hai un personaggio che ti viene descritto con per esempio vi faccio magrè in pietri lettone era uno grosso muscolare con la bombetta il solito capotto di velluto e la pipa in bocca può essere alto può essere basso più avanti il simenon ti descrive che era muscoloso che aveva i polpacci che tiravano sotto i pantaloni poi più avanti ti dice che aveva un carattere burbero perché si comportava in quel modo poi più avanti ti dice che ha un tipo di atteggiamento che anche sotto la pioggia è una roccia e piano piano tu da un cappello una pipa e un cappotto ti disegni un personaggio che scopri pagina dopo pagina è questo il fascino perché ti lascia la libertà di mettere a fuoco di capire che tu davanti agli occhi e davanti a te man mano che il libro scorre ed è il fascino della scoperta e ripeto per me è la differenza tra si farebbe molto prima se lei venisse vestita soltanto del bicchiere o uno spogliarello in grazia di dio che ti fa scoprire la donna che stai amando questa è la differenza fondamentale secondo me sono gusti ripeto però è innegabile che dal punto di vista tecnico dal punto di vista tecnico se parliamo di tecnica narrativa un conto è essere descrittivi un conto è mettere dei riempitivi che non servono a niente io la chiudo qua perché poi è un discorso che farei all'infinito perché ci rifletto talmente tanto e mi dà talmente tanto fastidio che ormai una cosa bella come un thriller tra l'altro guardate che il thriller il thriller non è necessariamente solo questa roba di serial killer o questa cosa di poliziotti che inseguono la morga e tutto quanto la case carpetta eccetera con omicidi e cose il thriller è una serie di eventi che ti portano l'attenzione ma non deve essere necessariamente una cosa stereotipata in questo modo con miliardi di pagine che descrivono un thriller ha diverse dimensioni James Hardly Chase scrive sostanzialmente dei thriller perché oltre a essere un noir colpo a freddo di cui vi ho parlato che non è il migliore chiaramente ma quel tipo di thrilling quando lui ti dice che sta per succedere qualcosa e tu aspetti che succederà qualcosa quella è la tensione quello è il thrill è la stessa cosa di avere un assassino che ha rapito una donna e sta scappando e tu lo stai inseguendo oppure sapere che c'è una persona che sta per essere ammazzata e qualcuno che sta andando in bocca all'assassino quello è il thriller il meccanismo è quello è quello che mettevi in alto Hitchcock che infatti faceva dei thriller per definizione non c'è bisogno dell'inseguimento della velocità pensate a io ti salverò pensate a ma qualunque libro di Hitchcock a parte vabbè forse North by Northwest quello chiaramente c'ha molta più azione ma anche lì ci sono dei rallentamenti quindi non confondete l'idea del fatto che un libro ti debba far venire la pelle d'occo o ti debba tenere in tensione col fatto che ci debba essere un serial killer o che ci debbano essere miliardi di pagine che ti dicono ti dicono ti dicono ti riempiono la pancia di aria perché poi lo sapete cosa succede dopo che hai tanta aria in pancia no? alla prossima